Certo che c'è due contro due, tre contro tre, adesso quattro contro c'è Attento che c'è un aereo che... Uno di loro ha la F-22, noi siamo tutti F-22 Ma stai attento che uno dei nemici dovrebbe avere i droni Ok, quello ha capito cosa volevo fare Colpito e distrutto, bene la prima uccisione è mia figli di troia Devi mirare l'ADF-01 Che in teoria... Ah no non è quello con i droni l'ADF È l'altro, è l'11 quello con i droni Bene Eh ci sto dando dietro sto ADF ma Ti faccio più di me Ma l'hanno buttato giù Ma non capivo più dove girarmi Oh vai Bravo, avete buttato giù quello con tre stelle E ne ho buttato giù un altro Colpito E distrutto Cazzo di time Nooo Dio boi stavo sparando, mi ha sparato Mi ha sciolto con un colpo solo Che cazzo di missile era? L'8AM cazzo chissà quanti me ne ha fatti partire Eh anche a me, cioè io non avevo subito tanti danni con un colpo masquagliato Eh perchè può agganciarti anche con più missili eh Con 8AM e 4AM può agganciarti con più missili Eh sì E' raffan cool occal-kig Existort E' raffan cool a ketene E' raffan cool E' raffan cool E' raffan cool E' raffan cool bene Atis bravi c'è quello con la df che mi si sta attaccato al curo guarda lì ho, maledetto guarda lì Brutto. Che casino di sentenza! Tutti qua siamo! Non è un po' troppo affollato stasera qui? Eh, ti ho buttato cano qua! Che palle! Colpito e distrutto! Beh, la partita è nostra! Abbiamo fatto quasi il punteggio massimo! 79.000 ho fatto! Non lo so, però abbiamo fatto un sacco di punti! Il migliore, però, è un avversario! Il Zaylord! Beh, ce l'hai anche meritato! E niente Cooper, sei diventato più bravo di me! Il migliore dei nostri è stato io! Ma che cazzo dici? Oh, sono due partite che fai meglio di me! Si vede che sei di porta! Io l'avrei mai detto! 8 colpi a segno, 6 uccisioni ho fatto! Eh, io non ho guardato! Bene! Mi sta pagando un valo di soldi che... Termano sempre! Sergente maggiore e anziano! Esatto! Strutto il maggior numero di nemici e inflitto il maggior numero di danni! Mi ho dato Ace! Medaglia Ace, grado S addirittura! Che non so che cazzo vuol dire, però grado S è sempre bello! Ace è la migliore onoefficienza, vuol dire Asso! Ah, ok! Quindi mi ho dato la medaglia Asso! Ok! È stato un grande scontro! Eh, è stata una bella partita ragazzo eh! Mamma mia! Oh! Ma più che altro non pensavo... Eh, ma vedi... È stato l'aereo... Il saltaggio dell'aereo... Mi ha svoltato! Mi ha svoltato un po', quello sì! È stata veramente una bella partita!